E' stata picchiata per strada durante un tentativo di violenza sessuale, momenti terribili per una trentenne che viene qui al circolo di San Bartolo a Cintoia ogni tanto e che l'altra notte si trovava proprio qui con un uomo che le ha proposto un altro drink in un bar del Luci Cinema, visto che il circolo stava chiudendo, era l'1.20 di notte. I due si sarebbero conosciuti qui nel cortile fuori dal circolo San Bartolo a Cintoia all'isolotto, poi dopo si sarebbero diretti verso via Simone Martini. La ragazza si è fidata e invece è stata aggredita violentemente. Si sono incamminati su via Simone Martini quando lui ha cambiato atteggiamento, ha tentato di baciarla e ha rifiuto di lei, ha cominciato a prenderla a pugni, rompendole una mascella. Sentendola gridare e vista per terra con i vestiti strappati, alcuni residenti hanno chiamato la polizia e l'uomo è scappato portandosi via il contenuto della borsa della ragazza rimasta a terra. Nessuno aveva notato qualcosa di strano poco prima al bar. Ho finito il servizio al ballo e dovevate ragazzi dovete uscire perché si chiude i cancelli. Era un ragazzo, insomma questa ragazza qui che viene ultimamente spesso qui al bar. Ovviamente non l'avete più rivisto? No, no, no. E poi ho saputo stamani questa cosa qui. E qui erano tranquilli? Sì, 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 tranquilli, erano seduti insieme lì. La giovane donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che le hanno riscontrato la frattura multipla della mandibola oltre a varie contusioni. Ne avrà per oltre un mese. È scattata immediatamente la caccia all'uomo da parte della polizia.